In una relazione con una personalità narcisistica, spesso ci si trova in una dinamica, in un ciclo di manipolazione e controllo, dove quel partner mette in discussione i nostri valori, facendo leva sulle proprie insicurezze, per nutrire il proprio ego. Uno dei punti che tu devi conoscere è proprio questo schema. Loro si aspettano che il proprio partner resta per sempre in una posizione di inferiorità e dipendenza. Perciò mostrare forza li destabilizza, li sconvolge, li sorprende, perché ti hanno sempre dato per scontato. Non se l'aspettano che tu trovi la forza per emergere dalla sofferenza. Ed ecco in questo video 5 riflessioni per renderti ancora più forte e più consapevole. Entro subito nel tema e vi dico il primo punto. La prima riflessione che voglio far con voi è questa, il bisogno di dominio. Ecco, le personalità che mostrano comportamenti narcisistici basano, come dire, costruiscono le loro relazioni in modo di mantenere il controllo. Ecco, tramite tattiche subdole di manipolazione, allenate anni indietro, loro vogliono che l'altro dubita costantemente delle proprie capacità, delle proprie percezioni, della propria realtà. Ed ecco è proprio qua, in questo contesto, che iniziano a nascere, come dire, i dubbi su di noi. Ti fanno credere che tu non ce la fai, non vedi un futuro, non vedi una vita senza di loro. Ti fanno credere questo. Ma passiamo al secondo punto, la forza e la sorpresa della tua forza, della tua resilienza. Ecco, un altro punto importante è questo. Loro non prevedono che una volta che tu acquisisci consapevolezza, ok, una volta che tu sai di cosa si tratta, loro non prevedono questo, che tu trovi la forza, il modo anche per essere determinato, per essere resiliente e per uscirne fuori. Non prevedono questo scenario. Ed ecco il mio consiglio, che poi chi vede i miei video da tempo sa che se tu vuoi minacciare la fine di questo rapporto, lo fai quando sai di uscirne di quella casa domani, oppure oggi stesso. Perciò parlare un po' a vuoto, dire io me ne vado, io basta, ho finito, invece stai lì anni e anni e anni, non solo l'altro perde il rispetto, la considerazione per te, ma aumenta, c'è sempre un escalation nei comportamenti disfunzionali dell'altro nei tuoi confronti, perché non ha rispetto, non ha considerazione, non si fa problemi nell'aumentare la sua aggressività nei tuoi confronti. Perciò sì, minaccia che te ne vai via, ma se lo fai domani, se lo fai oggi stesso, altrimenti non è nel tuo vantaggio, perché l'altro ovviamente si ridimensiona, l'altro poi cerca di fare dei passi indietro, cerca una riconciliazione e tu cadi. Perciò ti mostrano il mignolo e tu ricadi e tu ti perdi in questo ingano, nuovo ingano. Ed ecco, investi in te, cerca di riprendere il controllo della tua vita, scopri chi sei, ma anche quello che tu vuoi davvero. Il terzo punto, invece, è il potere della tua autostima. Sai cosa? Quando tu ti rendi conto che non hai più bisogno della sua approvazione, non hai più bisogno del suo ok, quando ti rendi conto che la tua autostima non si basa sulla sua approvazione. Ecco, questo disturba profondamente l'altro. Perciò, quando la tua autostima ha le radici sulla tua approvazione, ok, interiore, questo disturba molto l'altro, che era abituato alla versione vecchia di te. Perciò, quando la tua autostima è ora ancorata ben profondamente nell'accettazione di sé, quando tu smetti di essere vulnerabile alle critiche e giudizi dell'altro, lì si rompe la dinamica della dipendenza emotiva. Un altro punto, il quarto, che è il mio preferito perché parla di riscato e di libertà. Ecco, noi abbiamo una forza inaspettatamente grande dentro. Ed ecco, queste persone che mostrano comportamenti narcisistici, se si tratta del tuo partner, oppure un familiare, oppure un collega, un tuo responsabile, un amico, eccetera, non se l'aspettano che tu risali dalle ceneri. Per loro è una grande sorpresa vederti che tiri fuori questa forza emancipandoti. E passo al quinto punto, che sono i confini. Quanto, quanto mi piace parlare di confini. Perché queste persone che mostrano comportamenti narcisistici non rispettano i confini degli altri. E per alcune persone è molto, molto difficile delineare i propri spazi, delineare i propri confini. È molto difficile. Ma attenzione che costruire confini vuol dire rispetto, vuol dire proteggere me stesso, vuol dire proteggere il mio benessere. E costruire confini spesso, e soprattutto in questo caso, quando magari finisce il rapporto con una personalità narcisistica, alzare i muri. Perché a volte bisogna proprio alzare muri, non costruire finestre. Alzare proprio muri, perché a volte abbiamo proprio bisogno di allontanarci definitivamente da queste persone per salvarci. Ok? Perciò alzare muri vuol dire rispetto per me. E forse questo è il passo finale più importante. Ora è arrivato il tempo per dettare le regole. Sei tu adesso a dettare le regole. E quando se ne accorgono che non ti pieghi più ai soliti giochetti, alle solite manipolazioni, si rendono conto che stai diventando sempre più irraggiungibile. Ma qua ci vuole coerenza da parte tua. Perciò ecco, quando dico confini, dico un insieme di tutto. Perché i tuoi confini sono il, diciamo, segnale della tua forza interiore. Finalmente della tua forza acquisita. Manda il messaggio all'altro che sei forte, che adesso ti sei presa cura di te, ti sei preso cura di te. Che adesso finalmente ti sei preso in carico. E onorare i tuoi confini ti permette anche di costruire relazioni sane, autentiche, vere. Dove non comprometti, non c'è il rischio di compromettere il tuo benessere per nessuno. Perciò ecco, come gli alberi hanno messo le loro radici profondamente. Nonostante anni di vento, nonostante anni di temporali, tempeste, vento, freddo, hanno messo le loro radici in profondità. Ecco, così anche tu. Magari c'è qualcuno che soffia forte, c'è qualcuno che soffia forte verso di te per sradicarti, per abatterti. Ma tu hai messo le radici profonde. Tu adesso sai chi sei, tu adesso ti conosci. Non c'è vento che ti abatte, non c'è freddo che ti ghiaccia, che ti butta a terra, che ti congella. Perché hai costruito solidità dentro di te. Ed ecco, è stato questo il video di oggi. Se avete bisogno di una consulenza con me, trovate qui il mio sito. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi a questo canale. Grazie.